Prima era solo una battuta, poi solo una botad, poi quasi una certezza. Ora è ufficiale, Borca Valero, ex giocatore della Fiorentina, giocherà in promozione nel centro storico Le Boschi. I grigionieri, che giocano alla Scania Onesi di Tavarnuzze, accolgono il sindaco Borca Valero all'interno della curva Moana Pozzi. Borca Le Boschi si legge nel comunicato di annuncio come se un giorno dovessimo costruire il nostro stadio e qualche genio di architettura di livello internazionale. Facessi il progetto che venisse poi reso materiale dai migliori carpentieri e opera in circolazione. Borca è un ragazzo straordinario, aggiungono quelli delle Boschi, come lo sono molti e molte di noi che già militano da anni nel nostro movimento. L'unica differenza è che è un fottuto fenomeno col pallone fra i piedi ed è un gigantesco megafono per diffondere le nostre idee rivoluzionari sul calcio, per il semplice fatto che sono anche le sue. E se così non fosse, non saremmo qui a parlarne, perché certe cose non si comprano e a volte gli spiriti affini si incontrano. Perché alcune cose sul calcio non solo non sono riformabili, vanno proprio spazzate via e ricostruite, con l'esperienza e la minuziosità, con l'esigenza di acceleri in ogni campo, mossi dalla forza dinamitarda della passione. Quella che ti fa pensare che forse uno come Borca Valero possa davvero decidere di unirsi a noi e fare un pezzo di strada insieme. Stiamo alzando l'asticella, non si era capito? I sogni migliori si fanno da svegli, è tempo di muoversi e giocarsi tutto. Noi ci siamo, una storia romantica di calcio e d'amore. Intanto Borca Valero è un giocatore delle boschi.